La moda è qui e nello stesso tempo è già nel futuro. La moda è qui e nello stesso tempo è già nel futuro. La moda è qui e nello stesso tempo. La moda è qui e nello stesso tempo è già nel futuro. Nel terzo appuntamento a Roma, investighiamo la connessione tra la donna e il nuovo tempo, tra la moda e l'arte, l'abito e lo spazio. Ho mutuato da mia madre Laura la passione per il futurismo e per Giacomo Balla. Per i colori e le forme energizzanti, per le geniali intuizioni avanguardiste. L'abito veste il movimento della vita. La moda deve anche coltivare i giovani, immaginando che le idee abbiano costantemente bisogno di quell'enzima di freschezza e fantasia, portato dalle nuove forze e dai nuovi talenti, che interpretano la moda come una passione gioiosa, fatta di responsabilità ed educazione al gusto del bello. Ho immaginato quasi una trilogia. Prima la piazza del Campidoglio, con il suo spirito di rinascimento, poi la Rapacis e adesso il Museo Maxi, un progetto architettonico che ospita il futuro. Prima la piazza del Campidoglio, con il suo spirito di rinascimento. Prima la piazza del Campidoglio, con il suo spirito di rinascimento. Prima la piazza del Campidoglio, con il suo spirito di rinascimento. Prima la piazza del Campidoglio, con il suo spirito di rinascimento. Prima la piazza del Campidoglio, con il suo spirito di rinascimento. Prima la piazza del Campidoglio, con il suo spirito di rinascimento. Prima la piazza del Campidoglio, con il suo spirito di rinascimento. Prima la piazza del Campidoglio, con il suo spirito di rinascimento. Quasi una performance di arte totale. Moda, danza, pittura, architettura, musica. Il connubio arte e moda è la nuova forma di cultura artistica, che appassiona ed entusiasma il pubblico. Re-inventing the universe. La piazza del Campidoglio, con il suo spirito di rinascimento.